Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Manila Nazzaro ha sconvolto tutti per la sua ineguagliabile bellezza, mostrando così il look scelto per un matrimonio. Indimenticabile la meravigliosa Manila Nazzaro, ricordata in più come l'ex coinquilina del grande fratello Vip. Un percorso ricco di vicissitudini ed emozioni, anche a livello sentimentale, viste le sorprese, a volte non troppo piacevoli, del suo amato Lorenzo Amoruso. Ma, una volta uscita dalla quella magica porta rossa e fatto rientro a casa, l'abbraccio è stato così naturale e molto romantico. A seguire, si è accennato più volte con riguardo ad un imminente matrimonio tra i due ma ciò non si è ancora realizzato e solo adesso l'ex showgirl ha svelato al magazine chi i reali motivi per cui non abbia intenzione di sposarsi, non è il momento ma stiamo bene così. Nonostante, per lei, le nozze siano saltate, è stata invitata alla cerimonia di una sua amica, presentandosi con un look per nulla sobrio ma che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Manila Nazzaro, ecco come si è vestita alle nozze dell'amica, Manila non sbaglia mai un colpo. Siamo abituati a vederla sempre molto elegante e un esempio è dato proprio dal GF VIP, durante le puntate, in collegamento con Alfonso Signorini dallo studio oppure basti scorrere le foto sul suo profilo social. Abiti sinuosi, stampe prevalentemente colorate ma non manca la raffinatezza del colore nero. Ebbene, questa volta però l'ex GFina si è superata. Al matrimonio della sua amica ha sfoggiato un look da lasciare senza fiato. Coloratissimo e in linea con il mood estivo, tutti hanno apprezzato, compresi alcuni VIP e colleghi. Perciò, ecco, la vera, regina della festa, un look per nulla sobrio. Poche ore fa Zahira ed Emanuele sono convolati a nozze. Trattasi di amici della divina Manila Nazaro che prontamente ha documentato tutto sui social, dalla cerimonia vera e propria al ricevimento, tenutosi a Villa Aurelia. Naturalmente il dettaglio che non è passato inosservato è proprio l'abito della sposa, caratterizzato da bustino in pizzo e gonna in tulle ma, soprattutto, l'outfit della showgirl. Un look incantevole, da principessa, costituito da una blusa color lilla con una profonda scollatura e una gonna lunga, dal taglio semplice, giallo limone. Il tutto abbellito da una preziosa fascia in vita. Immancabile la pochette come accessorio e, a completamento, un make-up sui toni rosati nonché acconciatura classica e ondulata. Tanti i complimenti ricevuti per la sua veltà ed eleganza, incoronata, appunto, come, la regina più bella del mondo, stando a quanto affermato da un utente web. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.